Noi partiamo da fogli di carta filigranati, su questi fogli di carta con le grafiche concordate insieme all'amministrazione stampiamo le banconote insieme su un unico foglio. Questo foglio viene poi plastificato in modo che si potranno in un futuro disinfettare 5 Ducati 5 euro, 20 Ducati 20 euro anche per evitare una certa confusione soprattutto per le persone anziane. Musica 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 Grazie a tutti.